Ciao ragazzi, bentornati in l'EMAX Channel. Oggi è venerdì, appuntamento con il pack opening di FIFA 18. Io questa settimana ho un pack opening particolare perché per la prima volta, come chi ci segue ha visto nei video precedenti, ho completato gli incontri principali. Quindi abbiamo i pacchetti degli incontri principali, abbiamo i pacchetti che adesso vado subito a sbloccare ottenuti con la Weekend League, eccoli qua. Siamo arrivati a Argento 2, non le ho finite tutte, purtroppo non ho tanto tempo a disposizione per fare tutte le 40 partite, però ci siamo qualificati per la Weekend League di questa settimana. Abbiamo un pacchetto Omega, un pacchetto orolari e abbiamo portato a casa 15.000 accrediti, eccoli qua. Ve li faccio vedere subito, abbiamo questi pacchetti da aprire in questo video. Sono pacchetti, diciamo, importanti e che noi andiamo a dedicare ai nostri iscritti che ci hanno richiesto e che ci seguono. Io adesso vado subito avanti, basta con le chiacchiere, andiamo a aprire subito il primo pacchetto. Pacchetto oro premio, via! Apriamo il primo pacchetto, voglio un'icona, voglio un'icona, brilla o non brilla? Non brilla. Ma è un oro raro. Vediamo chi è. ATT, Valencia. E vabbè ragazzi, con questo pacchetto niente di buono. Vediamo chi è uscito qua. Inviamo tutto al club. I doppio ruolo di scarto subito. Pacchetto successivo, lo dedichiamo al nostro amico Marco, che ci segue sempre e quindi io vi dedico questo pacchetto. Pacchetto oro premio maxi per te. Vai, per Marco, via! Apriamo, apriamo, vediamo un po'. Vediamo se brilla. Dai, 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 dacci se lavagne! Non brilla, non brilla, ma è oro raro. Vediamo chi c'è. Musa, questo ce l'abbiamo anche dopo. Quindi andiamo subito a vedere. Cosa ci ha dato questo pacchetto? Guarda, niente, 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 non ci esce uno bello, ma non è, ce l'ha mi ferito. Pacchetto dedicato a Antonio. Pacchetto oro maxi. Tutto per te, Antonio. Vediamo chi c'è. Vediamo chi c'è. Nemmeno adesso brilla. Mamma mia, è suo FIFA 18 proprio. Zero titoli, proprio. Zero, zero. Niente da fare, ragazzi. Niente da fare. inviamo al club. Questo è per Riccardo, vai, pacchetto oro, premi un maxi per il nostro amico Riccardo. Dai, Ricky, vediamo se a te va bene o meglio, se a me va bene, perché alla fine, niente, nemmeno adesso è lavagna. Anche questo oro raro, spagnolo, TD, ed è De Marcos, che quasi quasi, non lo so, non ho la spagnola, visto che ultimamente ne becco tanti quasi quasi. Mi farei una rosa spagnola, inviamo tutto al club, chi c'è qua, mi sono un calciatore, via. Doppio stadio, scartiamo. Ci rimangono gli ultimi cinque pacchetti. Questo lo dedichiamo al nostro amico Igor. Andiamo ad aprire, pacchetto oro, rari, via. Apriti, pacchetto. Dai, 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 brilla una volta, brilla una volta, brilla una volta e non brilli mai. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Denisov, russo qua, ma che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Niente da fare, ragazzi, niente da fare, niente da fare. Ci sta andando male, ma tanto non è una novità. Passiamo al pacchetto dedicato a Matteo, subito, via, apro subito, pacchetto mega. Tanto si deve uscire, esce. Fino adesso nessuna lavagna. Eccolo qua, ce lo siamo chiamati, l'abbiamo chiamato lavagna francese ATT. In Camerot, mannaggia la miseria, mannaggia la miseria. Eh, quasi quasi avevo sperato che era un altro, comunque, Camerot. Poi c'è Ruiz, Muglier, Mignolet, Costa e via via. Vabbè, è uscito una lavagna, quindi è andato un po' meglio rispetto agli altri. Un pacchetto argento. Scommodchiamolo. Un pacchetto argento. Sono degli argentoni che hanno un valore molto elevato. Andiamo ad aprire subito il suo pacchetto argento. Apriamo subito il suo pacchetto argento, vediamo chi c'è. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo chi c'è e chi è. Non lo so. Mannaggia la miseria. Ci sta andando male, ragazzi. Sono una lavagna, per di più un 83, al minimo. E poi, se devo fare una critica a questo gioco, tra le tante, può mancare quella di aver messo come workout gli 83. Boh, rimangono gli ultimi tre pacchetti. Io lo vado a dedicare a Mattia, questo pacchetto. Giocatori 1 Prime. Pacchetto giocatori zingo rari. Pacchetto giocatori zingo prime piccolo. Apriamo questo. Vediamo se ci esce un'altra lavagna. Niente. Niente lavagna. Anadezza. Niente da fare. Ragazzi. Qualcuno dice che bisogna uscire e rientrare quando fa così. Non lo so. Dobbiamo provare a fare così. Proviamo a fare così. Facciamo così. Esco. Altra volta c'è uscito almeno Coutinho, un 86, ma adesso proprio niente. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Rientriamo. E che dobbiamo fare, ragazzi? Cosa dobbiamo fare? Purtroppo, né uno della squadra della settimana, né unicola. Non so, è impossibile. Comunque, andiamo avanti, apriamo gli ultimi due pacchetti che io dedico ai nostri amici Michele e l'altro al nostro amico Luigi. Andiamo apriamo gli ultimi due pacchetti che io dedico ai nostri amici. Giocatori oro premio. Eccolo qua per Michele. Vediamo che succede. Non brilla. Cororaro. Spagnolo. Spagnolo TD è capa, capa re de che, capa de che, raga. Mannaggia, mannaggia ragazzi, niente da fare. Senza i ditini magici è ancora peggio. Ultimo pacchetto. Luigi, tutto per te. Vediamo se ci esce, se brilla una lavagna. Eccolo qua. Quasi quasi non lo vedo. Voglio provare. Sono scaramante. Non lo voglio vedere. Uno, due, tre. Tutto per tre. Tieni. Non lo posso. Non lo posso. Non lo so, non lo so, chi è, vediamo. Che sarà? Ah, comunque è uscita una lavagna. Dai, non male, è un 84. Bene male, un 84. Quindi, rispetto agli altri pacchetti, qualcosina di meglio è uscito. Ah, c'è uscito un altro. Due, 84. Bene male, questo pacchetto ci ha dato qualcosa in più. Bene ragazzi, cosa dire? È finito qui. È terminato questo pack opening settimanale dedicato a FIFA 18. Ma purtroppo, anche questa settimana non abbiamo sculato. Questa che vedete è la mia squadra. La squadra che andrò a affrontare questa weekend lì. Ebbene ragazzi, termina qui. L'appuntamento settimanale del venerdì con FIFA 18 pack opening. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, sosteneteci, attivate anche la campanella. Vi saluto, vi abbraccio tutti e vi do appuntamento per FIFA 18 per il pack opening. A venerdì prossimo. Ciao ragazzi. A venerdì. A venerdì sono Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!